salve a tutte e tutti amici di youtube sono qui per dirvi che io ho intenzione di partecipare al progetto italy for a day di salvatore che indice la rai la televisione di stato italiana che non ho ben capito se bisogna filmare tutto il giorno di oggi sabato e poi mandare alla rai o se magari da qui all'ultimato ma la data di scadenza si può firmare e mandare io ad ogni buon dubbio ad ogni buon conto e filmerò anche oggi per quello che posso comunque selezioni no no i miei video perché oggi ho provato a caricare un video che ho fatto la mattina questa mattina però non sono riuscito a caricarlo nella pagina della rai anche se mi sono iscritto tutto beh le selezioni no no i miei video per fare il gran collage io poi li caricherò in youtube per condividerli con tutti voi però faccio questo comunicato per annunciarvi che c'è questo concorso questo evento creativo e quindi vi invito anche a tutte e tutti voi che mi ascoltate mi seguite se non sarà troppo tardi perché qua sono le quattro del pomeriggio la magari devono essere le 23 ore 24 quindi c'è poco da dire ragazzi non stiamo qui a dire corbellerie ormai vi è scaduto il tempo per dici e non è vero però come sempre continuerò a filmare per youtube e non vi scordate di seguirmi nel mio canale che questo dove appaio appaiono i miei video appare anche questo pare evidente il canale sante gian infatti voglio proprio vedere come potrò dare il mio contributo al largometraggio di tanti cortometraggi italiana dei degli italiani che danno il loro contributo io ci provo ecco allora il saluto a tutti e tutte a laura pezzino e lo viola mimo corcione e al nostro marco travaglio che ancora non mi risponde vabbè che posso dire io tanto gli mando dei suggerimenti che ho mandati qualche suggerimento poi salvatore se adesso che fa questo italiana dei magari prenderà i miei brani io per il nostro paese non so che altro contributo fare o dare parte che mi potreste anche seguire nel mio canale radio di speaker sante gian e niente un saluto anche a come si chiama massoni professor serafino massoni e con saluto a serafino massoni e tutti quelli che mi hanno scritto privato ho commentato i miei video in pubblico adesso vi lascio questo voleva essere un saluto e un ricordatorio per questo progetto italina dei della rai di salvatore perché ecco mi sta a fare male il braccio io dopo 5 10 minuti già non posso reggere il cellulare manderò qualcosa informato del cellulare che di due megapixel e informato della filmatrice che ho peccato che non si può editare che di 8,5 megapixel la mia filmatrice beh allora ciao a tutti ciao travaglio ciao salvatore ciao ciao niente forse fare altri video adesso devo staccare questo perché veramente mi fa molto male il braccio arrivederci il vostro santo incendi ecco qua aggiungo una nota bisogna sempre tenersi in forma in movimento io cerco di avere dell'attività fisica soprattutto cerco di applicare i suggerimenti consigli che mi ha dato il medico perché bisogna muoversi infatti lui mi ha detto che lo sport e salutare ciao salve a tutti e arrivederci alla prossima così di passo mi mantengo in forma ciao arrivederci salve ciao 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 Grazie.